Ti stavolge la vita perché non sei più libero, ti viene privata la libertà perché la coppia, se c'è una coppia non è più coppia, non si è più genitori al 100%, insomma non si è più libero di fare quelle cose che potevi fare prima. Adesso per esempio con mia figlia io se non c'è l'infermiere non sono libero neanche di farmi la doccia. Per un bambino disabile che ha determinate competenze, insomma che non abbia la sfortuna tra virgolette di essere un bambino allettato oppure con le macchine 24 ore su 24 e quindi ad esempio il caso di mia figlia che con tutte le problematiche riesce ad andare a scuola 2-3 ore al giorno e significa veramente che il mondo cambia. Mia figlia, e ti faccio sempre il caso di mia figlia perché è un'esperienza diretta, quando è arrivata a scuola a settembre ha cambiato la mentalità non solo dei bambini perché quella è abbastanza semplice ma di tutti i genitori e delle maestre e delle educatrici che sono lì e questo poi abbiamo avuto prova effettiva quando hanno fatto la recita a Natale insomma dove veramente 200 genitori guardavano la bambina che era in difficoltà ma che sembrava una bambina normale. Insomma è stata una gioia ed è una gioia il fatto di sentirsi empaticamente poi compresi da tutte queste famiglie che prima non avevano idea di cosa potesse significare avere un disabile infatti. Questo incontro era stato voluto fortemente dall'assessore in consiglio regionale, era stato proposto proprio da lui, dalla sua giunta ed era ai tavoli che ci sono stati la settimana scorsa dove ci sono state le prime proposte di modifica della libera e ci aveva invitato proprio chiaramente alla commissione di oggi per spiegarci alcune cose, anche per confrontarsi con i gruppi di opposizione. Il fatto di non essersi presentato io la interpreto per me di tutto come una mancanza di rispetto, devo essere sincero, verso tutte queste famiglie che oggi qua, per presentarsi oggi qua hanno dovuto incastrare infermieri, educatori, famiglie eccetera e poteva venire sicuramente qua a metterci la faccia e dirci chiaramente che aveva bisogno ancora un po' di tempo per risistemare tutti i dettagli perché insomma adesso noi sinceramente abbiamo, noi abbiamo colto un segnale di apertura all'incontro che abbiamo avuto e abbiamo anche noi fatto un segnale di apertura volendoci fidare, però io oggi questa fiducia viene meno, fin quando non vediamo i fatti scritti nella delibera che contengano quello che noi ci aspettiamo e quindi abbiamo i bisogni e la necessità delle famiglie e noi iniziamo a concludere. Noi ci sentiamo soli più che abbandonati, che forse va bene, possono anche sembrare dei sinonimi o comunque avere dei significati equivalenti. Ci sentiamo soli perché la B1 la consideriamo una sorta di apripista per cercare di far capire, di sdoganare la disabilità, perché noi combattiamo ogni giorno con le istituzioni, soprattutto bambini che cominciano ad andare nel mondo esterno, quindi a scuola piuttosto che in un centro, piuttosto che in ospedale, piuttosto che sono bambini che comunque ogni quotidianamente si è costretti a combattere con la regione, con la comuni, con le SST per questioni di forniture, presidi eccetera, ma semplicemente per avere i bisogni minimi di quello che comunque per legge rispetto a questi bambini. E sinceramente è una vita che già è pesante, molto pesante come potete immaginare per quello che vi ho raccontato, da un punto di vista proprio di tutta la situazione. Se poi questo significa anche ogni giorno, ogni settimana andare a combattere per i diritti di tua figlia e questo diventa veramente molto pesante. Quindi in questo senso noi ci sentiamo anche abbandonati, soli, ma anche abbandonati ed è questo anche uno scopo secondo noi del comitato molto importante. Riuscire a far uscire le persone dalla solitudine, riuscire a far capire che si può combattere, che non ci si deve arrendere e che comunque non si assuri. Martedì ci sarà una commissione straordinaria nel quale l'assessore Bolognini verrà a presentarci questa delibera. Noi ovviamente cogliamo tutti gli spunti che provengono sia dalla realtà che tu la presenti ma anche dalle altre associazioni che hanno manifestato con voi e anche in altri modi contro questa delibera. Tu ci sarai martedì, immagino di sì. Assolutamente sì, cercherò di organizzarmi come oggi con gli incastri vari, però ci saremo e speriamo che sia la fine di questo incubo perché non ne possiamo più. Noi comunque porteremo avanti questa battaglia ma soprattutto ci dobbiamo prendere l'impegno di continuare a parlare di disabilità. Dobbiamo essere sicuri che tutti fuori sappiano cosa vuol dire assistere a un disabile e avere un disabile in famiglia, anzi una persona affetta da disabilità. Esatto. Grazie mille, Gregorio. Grazie mille. Vedi assessore, di questo ti volevo parlare oggi. Questi sono i veri problemi delle famiglie, magari ci vediamo martedì e ne discutiamo? Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.